Amici buongiorno, ben arrivati ancora su Teleromagna, 36esima puntata di Aspettando degni di nota, anche oggi un viaggio per ricordare i nostri ragazzi, i nostri grandi cantanti che hanno partecipato nella stagione 18-19 e 19-20 nel nostro talk show degni di nota, prima di dare inizio anche a questa nuova puntata, a questo nuovo viaggio nella musica vi ricordo il nostro indirizzo per consigliare amici, parenti di mandare un video, chissà, che magari qualcuno di voi non venga premiato e possa dire quel ragazzo l'ho consigliato io, guardate come bravo, dai, ci conto veramente tanto, come sempre un grazie a Orogel, a Teleromagna che mi dà la possibilità di fare tutto questo, a Videoproduzioni Maltoni di Galeata, ma adesso andiamo con la nostra musica, il nostro gigante buono, chi è che non si ricorda il nostro gigante buono? Mattia del Popolo, eh grande, hai fatto un percorso bellissimo, ti portiamo sempre nel cuore perché sei un gran bravo ragazzo Mattia, allora adesso amici andatevelo a ascoltare, rimanete incollati lì perché Mattia sono convinto che vi potrà emozionare, a tra poco! come bello partire, per arrivare da te, aspettare di vedere il mare, che ci divide ancora per un po', e nell'aria c'è qualcosa, che non so dire mai cos'è, queste sono parole, per spiegare questo amore mio, per te, mi guardi così, con quell'aria un po' curiosa, mentre mi avvicino a te, mi avvicino a te, ed un brivido dal cuore, mi accarezza l'anima, queste sono parole, per spiegare questi amore mio, sei la vita mia, sei la vita mia, sono un libro senza le parole, quando manchi tu, sono polvere del vento che, si trascina senza volontà, queste sono le parole, per spiegare questo amore mio, per te, mi guardi così, com'è triste partire, allontanarmi da te, un dolore che frantuma il cuore, e non ti aiuta neanche a piangere, perché in fondo sai amore, lascio l'anima con te, queste sono le parole, per spiegare questo amore mio, sei la vita mia, sei la vita mia, stare in terra, carica e sappiosa, se non ci fossi tu, stare in terra, stare in terra, se non ci fossi tu, stare in polvere nel vento che, si trascina senza volontà, non ci sono le parole, per spiegare questo amore mio, amore mio, per spiegare questo amore mio, per te, stare in terra, se non ci fossi tu, stare in polvere nel vento che, si trascina senza volontà, non ci sono le parole, per spiegare questo amore mio, per te, non ci sono le parole, per spiegare questo amore mio, per te, è il nostro Mattia del popolo amici, avete visto che ragazzone, ma soprattutto che bella voce, e che grande cuore, che grande cuore che ha il nostro Mattia, ti mando un abbraccio Mattia, sai la stima e l'affetto che ho nei tuoi confronti, allora vi ricordo velocemente, prima di passare alla stagione 2019-2020, il nostro indirizzo, lo sapete, ormai avrete l'incubo, ecco adesso Bergamini lo dice, vi direte a casa, lo so, lo so siete birichini delle volte, però grazie, grazie perché ci state dando un grande affetto e so che aumentate giorno dopo giorno alla visione del nostro appuntamento giornaliero, aspettando degni di nota, ma adesso torniamo a parlare di musica, se no magari dite che chiacchiero troppo, ma sono io contro voi, voi contro me, Erika Barzanti, stagione 2019-2020, ce la andiamo ad ascoltare e poi torniamo qui, a casa Bergamini. At last, my love has come alone, my lonely days are over. And life is like a song, oh yeah, 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 at last, the sky's above our blue. My heart was raped in Clover, the night I look at you. I found a dream that I can't speak to, a dream that I can call my home. I found a dream that I can't speak to, a dream that I can't speak to, a dream that I'll never know. And here we are in a place, for you are mine at last. And here we are in a place, for you are mine at last. E questa era la nostra Erika Barzanti. Erika, un bacione, un abbraccio e mi raccomando, è positiva, devi essere sempre positiva. Allora, siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento, vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo, lo vedete qua sotto, faccio sempre questo gesto perché mi piace, quando faccio così Renato mi illumina la pancia. Ricordatevi di consigliare a qualcuno che ama cantare, se qualcuno si vuole mettere alla prova, noi siamo qua ad accogliere il video, ascoltarlo, poi naturalmente verrà valutato dai nostri esperti di degni di nota. Noi ci vediamo domani, grazie a Orogel, a Teleromagna, a Videoproduzioni Maltoni, da Luca Bergamini, un grande abbraccio a tutti voi e che la vita ci cominci a sorridere un po' di più. Dai, che stiamo andando bene, però mi raccomando, fate i bravi, dobbiamo essere tutti quanti molto ma molto bravi. Buona giornata! Guarda un latino distratto, un'altra sigaretta e sfoggiare te, In un film americano c'è una che è somigliata a te Sto mettendo a posto tutti i sogni, nei cassetti per categorie, Tranne quelli che da un po' di tempo mi hai portato via Cerco nella mia coscienza l'ombra di una prova di chi sono io Ma non trovo che l'indifferenza tra il tuo cuore e il mio Forse sbaglio non dovrei pensarci, forse è giusto in fondo non saprei Quando la tua mano stringerà quella di un altro lui Pensami e pensa a quei giorni avvolgiti Tra quei ricordi che Vorrei forse ero anche i tuoi Ma rimango tu e vorrei Accullare le mie notti Pensami per non odiarti Aiutami a dimenticarti E se ti chiederà di me saprai Parlargli di noi senza parlarne mai Sei già fatta l'alba nel mio petto Il cuore è pur disperto Pensa ancora a te Mi approfitto per andare a letto Ma non sei con me Forse sbaglio non dovrei pensarci Forse è giusto, forse non saprei Se dirigere il mio cuore stanco verso un'altra lei Pensami e pensa a quei giorni avvolgiti Tra quei ricordi che Vorrei forse ero anche i tuoi Ma rimango noi vorrei Accullare le mie notti Pensami per non odiarti E aiutami a dimenticarti E se ti chiederà di me saprai Parlargli di noi senza parlarne mai E se ti chiederà di me saprai Parlargli di noi senza parlarne mai